L'Infamity Show è la vita proprio, la tv è solamente un riflesso contorto e edulcorato di ciò che è l'Infamity Show, che è la vita di tutti i giorni. Per me il successo di un disco si misura quando vai a farlo dal vivo e vedi che c'è un disastro di gente, i numeri su internet sono sempre numeri, voglio ancora vedere la prova del 9 che sarà in concerto, lì vedremo veramente di fare sul serio. No Comment è rivolto a tutti, me compreso, volevo fare un disco che a parte la musica avesse poco da dichiarare, spero anche che sia la reazione di coloro che lo ascoltano, che quando lo sentono non sanno più cosa dire. Perché passo la mia vita a cercare parole che suonano bene l'una con l'altra, cerco di chiudere rime con una parola che non ha mai chiuso nessuna, per esempio Todes King, che è una cosa che dico anche nel disco. Cioè io mi sento veramente in colpa quando lascio il foglio e vedo che non ci sono almeno 5 rime a verso. Se a reppare e fare le rime io ne faccio più di tutti, insieme a forse Madman, il mio socio. Guarda, per dirti una frase simile che ha detto la stessa identica cosa, però in una maniera diversa, Marra aveva detto a me piace Gucci perché fa bene le camicie, tu vuoi solo Gucci, Gucci, Gucci sulla superficie. È la stessa identica cosa, non mi vesto bene per far vedere l'etichetta che ho indosso, mi vesto bene perché mi piace, perché mi sento bene con me stesso, non mi sento bene a sbatterti in faccia quanti soldi costa la roba che mi metto addosso. Quest'anno con gli streaming che contavano per il disco d'oro diciamo che sono volati i dischi d'oro a destra e a manca e spesso è successo che cantanti che hanno fatto un disco d'oro dopo dal vivo magari non era lo stesso del risultato. Ok Corel è un pezzo, comunque è un esercizio stilistico, quando mi dicono con chi ce l'avevi, con chi ce la devo avere io, io ce l'ho con chi secondo me fa musica non per soddisfare un bisogno o per voler dire qualcosa, ma solamente per far vedere quello che non è, con questo ce l'ho, con chi non è spontaneo nella sua musica. Io preferisco dire delle frasi provocatorie nei dischi affinché la gente si domandi qualcosa piuttosto che fare una cosa inutile come scatenare una polemica sui social visto che comunque a conti fatti almeno hai fatto una canzone e hai prodotto qualcosa di artistico invece di aver prodotto un post o un'uscita stravagante sui social.